L'economia italiana oggi è in recupero. La crescita del prodotto si è irrobustita lo scorso anno portandosi all'1,5%, più di quanto atteso dai principali previsori. È stata sospinta in misura ancora rilevante dalle politiche macroeconomiche, ma è in aumento la sua capacità di autosostenersi. La domanda ha riflesso il buon andamento dei consumi e soprattutto degli investimenti, aumentati del 3,8%, ma ancora lontani dai livelli precedenti alla crisi. Il rafforzamento dell'accumulazione di capitale mancata nei primi anni della fase espansiva pone le basi per il proseguimento della crescita. Gli investimenti in beni strumentali hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali, degli incentivi per l'innovazione tecnologica, delle favorevoli condizioni di finanziamento e del progressivo miglioramento della fiducia delle imprese sulle prospettive della domanda. Alla crescita dei consumi ha contribuito a quella dell'occupazione, stimolata dalle misure di sostegno della domanda di lavoro. Nonostante l'aumento della partecipazione al lavoro, indotto dal miglioramento delle prospettive di impiego, la disoccupazione è scesa dal picco di poco meno del 13% nel 2014 a circa l'11%. Le esportazioni si sono confermate un fattore trainante della crescita. Nel 2017 hanno registrato un'espansione del 5,4%, superiore a quella degli altri principali Paesi dell'area dell'euro. L'aumento si è consolidato nel corso del secondo semestre dell'anno, nonostante il marcato apprezzamento del cambio occorso dalla primavera. È un segnale di recupero della capacità delle nostre imprese di competere sui mercati internazionali. Grazie soprattutto all'avanzo delle partite correnti, le passività nette dell'Italia sull'estero hanno continuato a diminuire, scendendo dal 23% del prodotto nel 2013 a meno del 7%. Questo dato si confronta con una posizione attiva netta verso l'estero del 60% in Germania e con una passiva del 20% in Francia e dell'80% in Spagna.